... Applausi 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 Noi vorremmo con un piccolo vis ringraziare anche in particolare voi come pubblico ma Marco Bortolato che è il tecnico che ha registrato e che ha fatto un bellissimo lavoro sulla vita Applausi Applausi E quindi vi facciamo un breve strato di quella che è la sonata che ha un po' l'origine a tutta la registrazione al progetto del disco che è una sonata dal Pastor Fido noto universalmente come raccolta di sonate di Vivaldi In realtà si è scoperto in tempi relativamente recenti, cioè alla fine del secolo scorso, ma insomma poco tempo fa che il vero autore non è Vivaldi ma Cedini E questo è uno dei tanti falsi che circolano ed è il falso di copertina diciamo del nostro cd poi nel cd se ne trovano molti altri li troviamo quindi con questo movimento del Pastor Fido di Cedini Grazie 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 Grazie